Signore e signori, buonasera, benvenuti alla casa italiana Zerilli Marimodo della New York University per la premiera del U.S. di Quando c'era Berlinguer, un film da Walter Veltroni. Siamo molto felici che il Mr. Veltroni ha acceptato il nostro invito di presentare il film qui. Il film è in Italia in teatro, è andato molto bene, ma è una cosa abbastanza in comune per il documentario in Italia. Siamo anche fortunati che ci sarà con noi per un Q&A al fine. Here you see the information to log on to our Wi-Fi, if you're interested. In other places they tell you to turn off your cell phones. We ask you to turn them on and tweet away. And we are also receiving questions via Twitter from other people that might not be here this evening. Without further ado, I leave you with the documentary. And please stay with us for the Q&A with Walter Veltroni at the end. Thank you. Before we start, as an Italian thing, la questione della lingua, and we're not going to do a bimbo remix, how many of you do not understand Italian? Tutti capite l'italiano. Quindi parliamo italiano. Fantastico. Prima volta che capita. Benissimo. For the people who are in the library, there are a few more seats that opened up. Two, three here. You can take those seats. Potete sedervi e accomodarvi in questi posti. Insieme a Walter Veltroni, ho qua sul palco come Antonio Monda, collega della Tisch School of the Arts qua a NYU, professore di cinema, corrispondente culturale per Repubblica e scrittore, il suo ultimo libro, si intitola La Casa sulla Roccia ed è appena stato pubblicato da Mondadori. Walter Veltroni, come voi sapete, è stato sindaco di Roma, vicepresidente del Consiglio, ministro della Cultura e ha iniziato la sua attività politica come responsabile dell'informazione nel Partito Comunista con Enrico Berlinguer. è anche scrittore e questo è il suo esordio cinematografico. Ma sappiamo che il cinema è una delle sue grandi passioni, tant'è vero che da sindaco di Roma inventò e creò la Casa del Cinema, fra le altre cose, e la Festa del Cinema di Roma. Io gli ho già fatto tutte le domande che dovevo fargli in un'intervista per conto del mio direttore Letizia Ayros che andrà in onda su Aitali TV a qualche punto e ve lo diremo, per cui rinuncio alle mie domande per lasciare più spazio alle vostre, perché io le ho già fatte, e invece chiederei di fare la prima domanda ad Antonio e poi ampio spazio alle vostre. Buonasera a tutti, grazie a Stefano Albertini, grazie a Walter Veltroni. Siccome immagino che molti avranno voglia di fare alcune domande e immagino che saranno soprattutto domande politiche, vorrei fare una domanda cinematografica, innanzitutto. Perché ho avuto il piacere e la fortuna di conoscere Walter Veltroni più di una decina di anni fa quando lui ha creato e fondato la Festa del Cinema di Roma e io ho collaborato per un breve periodo. Ho sempre saputo che la grande passione di Walter Veltroni era, ed è, continua ad essere il cinema. Volevo sapere se in questo momento della sua vita si sente più un uomo di cinema o un uomo politico. E' come le due cose si sposano. Tanto grazie. Grazie direttore, grazie a te, grazie Antonio, grazie a tutti voi. Fatemi dire un grazie speciale ad una persona di cui l'Italia ha ragione di essere orgogliosa, che è Renzo Piano, che è qui con noi e vorrei... Applausi La mia risposta alla tua domanda è che sono riuscito a far coincidere le due cose, quindi sono in condizione di non rispondere alla domanda, nel senso che per una singolare circostanza della vita, perché poi le cose succedono anche un po' per caso e... Voi avete visto all'inizio del film, dopo i titoli di testa, c'è quel filmatino che io girai in Super 8 all'età di 15 anni con una Canon e la prima immagine che ho girato è stato Berlinguer. Passa qualche anno, io finisco a fare un film su Berlinguer con una Canon, quindi diciamo il cerchio si è concluso. Sono in una fase della mia vita in cui per scelta, e perché lo ritenevo giusto, diciamo il mio impegno politico nel senso del lavoro quotidiano della politica è minore di quanto fosse prima. Il che non significa attenuare la passione, perché quando si fa quel lavoro lì si possono avere due pulsioni, una è l'amore per il potere e l'altra è l'amore per la politica. Non vedo nulla di male nel primo, io ho coltivato più il secondo del primo, per cui adesso che non ho più responsabilità di potere, non smetto di avere passione politica. E allora avendo la possibilità, perché prima non potevo farlo ovviamente, nel senso che qualsiasi cosa avessi fatto veniva interpretata come una parte di un discorso politico. Adesso che ho avuto la possibilità di farlo, perché la mia vita è entrata in una fase diversa, ho fatto un film su Berlinguer, come atto di gratitudine personale nei confronti di una persona il cui incontro ha cambiato il corso, per lo meno per la parte generale e collettiva della mia vita, e per una persona la cui vita politica e persino il cui carattere io ritengo siano qualcosa che è giusto ricordare, anche partendo dall'inizio del film, da quei ragazzi che io ho cercato di trattare con affetto e con simpatia, non caricando su di loro la croce. Perché? Perché è probabile che se fossero venuti davanti alla mia scuola, quando avevo 18 anni, mi avessero chiesto, non so, chi era Giolitti, probabilmente sarebbe stato difficile rispondere. Vi posso assicurare che il montaggio non è furbo. Ecco, io dicevo prima Antonio, durante la proiezione c'è a un certo punto quel ragazzo, quello che sembra Totti, che dice, sì, sì, uno scrittore, ha scritto un romanzo famosissimo, poi andava avanti dicendo guerra e pace. però abbiamo tagliato perché... Sì, sembrava Gess Carpelli, cioè non sembrava una cosa vera. E poi, vabbè, c'è quella ragazza che dice berlinguer francese, e ce ne sono 4 o 5 che hanno... Io tanto sono andato a vedere, perché dico, fai vedere che ci fosse un berlinguer generale francese della Seconda Corea Mondiale, purtroppo non c'era. Poi ci sono quella che dice l'Unione Europea e la Corea insieme, non si capisce. Beh, comunque, però quell'altra ragazza che dice la colpa non è mia e del sistema scolastico, è chiaro che butta la palla in farlo laterale, però un po' di verità c'è. Cioè, noi viviamo in un paese in cui per tre cicli scolastici, elementari, medi e superiori, si fanno per tre volte gli etruschi e non si fa mai la storia contemporanea. Per cui questi ragazzi arrivano senza sapere come è nato il fascismo, il che è anche pericoloso, perché se non sai come è nato e se non sai cosa ha fatto, diciamo, puoi essere più esposto a fascinazioni di quel tipo. Però, ecco, insomma, il film è fatto per raccontare sostanzialmente, almeno questa era l'intenzione, per raccontare la bellezza della politica. Mi permetti solo una domanda? Da prendere quella parola ovviamente a tutti. È evidente la tua ammirazione, il tuo amore, lasciami usare questo termine, per la persona politica, ma anche per l'uomo, Berlinguer. Nell'Italia di oggi, che sta cambiando abbastanza drasticamente, soprattutto negli ultimi mesi, ecco, quanto quello che ha fatto lui in una lunghissima gestione come segretario del partito oggi vale, conta? Cosa può ancora insegnare, secondo te? Ma guarda, essenzialmente è quello. L'idea della politica, vedi, c'è nel film, ci sono due momenti, c'è quella lettera inedita che la famiglia mi ha dato e che fa parte di un gruppo di lettere inedite che pubblicheremo in un libro, in cui Berlinguer, ragazzo, 22 anni, viene incarcerato per i moti del pane a Sassari, ha la testa... perché leggeva qualsiasi cosa, era onnivoro, leggeva Stendhal, leggeva i testi di Mazzini, Garibaldi, aveva veramente, diciamo, piena la testa di letture, di emozioni, perché stiamo parlando di un tempo in cui il fascismo era appena caduto, la democrazia non si era ancora consolidata, perché lui, diciamo, finisce in galera dopo la caduta del fascismo. E però scrive questa lettera in cui si scaglia contro la politicità, L'apoliticità, cioè contro l'idea che il fascismo, diciamo, tese a... gli ex fascisti tesero a mettere in circolo dopo la caduta del fascismo che la politica era una cosa brutta, dalla quale bisognava stare lontani, eccetera. Quello stesso ragazzo di 22 anni che nel 44 scrive quelle parole dal carcere, 40 anni dopo, su quel palco, dovendo decidere se interrompere un discorso per farsi curare, avete visto in quali condizioni, o finire quel discorso, un comizio, come ne avrà fatti mille, decide che è più importante finire quel discorso. E come avete visto, a me è sempre stato, perché quel filmato ha una storia abbastanza incredibile, quel filmato viene girato quella notte da un operatore, era una prima volta che venivano trasmesse sul grande schermo le immagini, quindi potete immaginare cosa fu per la gente di Padova, e quel filmato nella notte arrivò ad un'agenzia a Parigi che era stato venduto lì dall'operatore che l'aveva fatto. Siccome Bellinguera era ancora vivo, era in pieno svolgimento della campagna elettorale, né noi né la famiglia volevamo che quell'immagine andassero in onda per non utilizzare, diciamo, strumentalmente una cosa così. E io mi ricordo che la notte riuscì a capire che chi l'aveva acquistato, telefonai a questa signora che deteneva una delle grandi agenzie fotografiche mondiali e le dissi guardi, io non posso fare altro che fare appello al suo cuore. E questa signora mi rimandò la cassetta e io ricordo che quando Bellinguera morì la vidi nella mia stanza insieme a Giovanni Bellinguera, fratello e mi ha sempre enormemente colpito che lui dice l'ultima frase del discorso in maniera perfetta. Fa persino un sorriso prima, io l'ho messo nel testo e poi dice le ultime parole in maniera perfetta, proprio come la liberazione di chi ha finito il suo lavoro. Quel ragazzo lì del 44 è lo stesso che in coerenza con quello che aveva detto ritiene più importante finire quel discorso che curarsi. allora che cosa rimane di Bellinguera? Guarda ogni tanto anche in questo periodo con l'uscita del film tutti, ma Bellinguera oggi i tempi storici non si ripetono e fare i paragoni Bellinguera quando propose il compromesso storico lo propose in tre articoli su rinascita che uscirono in tre settimane diverse 21 giorni per fare una proposta politica adesso sono 140 caratteri di Twitter e vai. È chiaro che è un mondo diverso per cui non si possono fare paragoni. cosa resta di Bellinguera? A me pare che restino due o tre cose essenziali uno è questa idea della politica due è il coraggio perché adesso la memoria poi fa ma quando Bellinguera diceva che si stava meglio sotto l'ombrello della Nato non è che tutti nel partito applaudivano quando proponeva di allearsi con la democrazia cristiana contro la quale si era combattuto per 40 anni non è che ci fossero ribandiere che si trovano fuori e lui aveva questo coraggio e il coraggio che lo portò a Mosca a fare quel discorso quel discorso ha una storia ancora più divertente nel senso che gli dicono che lui può parlare dieci minuti all'anniversario della rivoluzione d'ottobre e lui prepara un discorso di dieci minuti siccome a quei tempi non è che tu andavi e parlavi vengono a prendere la notte prima il testo del discorso e lui gli consegna il testo del discorso gli dicono guarda puoi andare anche a 12 minuti perché sei il segretario del partito comunista italiano e lui prepara un testo a 12 minuti alle 4 di notte bussano alla Dasha di Berlinguer e gli dicono guarda purtroppo per un problema di organizzazione dei tempi devi parlare 6 minuti perché avevano letto il testo e non sapevano come fare perché non è potente quindi speravano che riducendo la metà del testo lui tagliasse questa parte qui invece lui ha lasciato solo questa parte e ha fatto quel discorso che adesso a noi ci sembra ovvio la democrazia è un valore universale grazie sì grazie però dirlo davanti a Brezhnev e a Ceausescu aveva un altro significato ecco a me questa per esempio è la cosa che a me è sempre più piaciuta di Berlinguer e terzo la questione morale perché lui disse che il re era nudo e quel discorso lì quell'intervista lì rifatta oggi funziona lo stesso quindi restano delle cose però senza la ossessiva e un po' infantile idea che si possa prendere qualcuno e spungerlo dal suo tempo storico e metterlo qui io ho messo il discorso di Moro che a me fa quello è un discorso pronunciato 15 giorni prima di essere rapito e quando lui con un filo di voce dice se mi chiedete se ci sarà qualcosa di nuovo io vi dico ci sarà qualcosa di nuovo e poi signorile dice che cosa sarà quel qualcosa di nuovo e cioè a novembre un governo del quale fanno parte i ministri comunisti ma a marzo lo rapiscono cioè quando si ha nostalgia della prima repubblica si sbaglia perché la prima repubblica era fatta anche di robe di quel tipo era fatta di Sindone era fatta di Calvi era fatta del rapimento e dell'assassinio di Aldo Moro rapito probabilmente dalle Brigate Rosse probabilmente nel senso solo dalle Brigate Rosse ma lasciato morire da tanti perché quello che dice Scalfari è verità cioè 11 su 12 del comitato che indagava per liberare Moro facevano parte della loggia massonica P2 quindi io della prima repubblica non ho nessuna nostalgia ho nostalgia di persone come Berlinguer e Moro nostalgia ho ammirazione nostalgia è un sentimento che diciamo ha un senso relativo applicato alle cose pubbliche queste sono le cose che secondo me restano e non è poco di un uomo morto 30 anni fa prima di procedere con le vostre domande volevo salutare oltre al senatore Piano anche il consulio generale d'Italia Natalia Quintavalle e chiedere a Claudia se può prendere il microfono dal professor Monda e cominciamo a sentire qualcuna delle vostre domande ci sono ancora due posti liberi in prima fila belli comodi se le persone che sono in piedi vogliono accomodarsi Federico Rampini di Repubblica magari vi chiedo di alzarvi in piedi così vi vedono anche le altre persone grazie Federico hai già detto che non vuoi che non è possibile fare analogie e quindi non farò una forzatura tuttavia una riflessione politica partendo dal compromesso storico perché in qualche a che misura si può avere la sensazione che quello sia ancora un cantiere incompiuto della sinistra italiana abbiamo avuto il presidente napolitano che tu intervisti lungamente qui che ha voluto due governi del presidente governo Monti e governo Letta di larga intese cioè fondati su una maggioranza dove c'era anche Berlusconi abbiamo adesso un presidente del consiglio Renzi che comunque per fare riforme costituzionali nuova legge elettorale cerca anche un accordo con Berlusconi ovviamente Berlusconi non è la democrazia tutto è cambiato Berlusconi non è la DC però ancora si ha la sensazione che la sinistra italiana cerchi non più tanto di legittimarsi a governare perché non ne ha più bisogno sta governando ma se deve fare dei cambiamenti profondi del paese di cercare l'accordo anche con il demonio di oggi che non è più Andreotti ma è Berlusconi dunque allora la domanda è assolutamente diciamo è assolutamente giusta in che senso dunque facciamo però una distinzione storica nel senso che Berlinguer fa una scelta vivendo un assillo cioè lui era terrorizzato del fatto che se il partito comunista che a quel punto era un partito del 34% cioè finché era del 25% poteva stare all'opposizione e non faceva problemi no ai fini dell'equilibrio mondiale quando lui prende il 34% e infatti hai sentito il discorso che lui fa dal balcone di Bottego Scuro è un discorso non trionfalistico è un discorso preoccupato perché in quel voto del 76% lui prende il 34% ma la democrazia cristiana prende il 37% per cui non c'è governo possibile senza l'alleanza dei due Berlinguer ha proposto il compromesso storico perché era terrorizzato da una prospettiva scilena cioè lui temeva a ragione e il rapimento di Moro sarà la conferma di questa di questa sua preoccupazione che quel partito comunista nel tempo della guerra fredda per andare al governo aveva bisogno di una legittimazione che derivava dalla partecipazione al governo con la democrazia cristiana quindi c'è dietro un'idea strategica gigantesca persino di geopolitica lui sapeva di avere contro sia gli americani sia i sovietici gli americani a Porto Rico devo dire su sollecitazione di Helmut Schmidt approvano al G8 una posizione per la quale dicono se i comunisti vanno al governo l'Italia si scordi gli aiuti internazionali dall'altra parte i sovietici che avevano cercato di ucciderlo a Sofia danno mille segnali del fatto che per loro è impossibile pensare che possa arrivare il partito comunista italiano su quella linea al governo in un paese occidentale quindi lui sapeva di avere contro gli uni e gli altri e allora cerca di creare le condizioni per le quali la partecipazione del PC al governo sia quella che determina il minor grado di reazione perché stiamo parlando degli anni delle bombe degli anni delle strage degli anni del terrorismo degli anni terribili che abbiamo vissuto io ho citato Brescia non per caso perché Brescia arriva due settimane dopo il referendum ed è una bomba della quale ancora non sappiamo chi era messa quindi la riflessione di Berlinguer parte da una scelta determinata da uno stato di necessità ma uno stato di necessità storico nel mondo separato in blocchi Berlinguer pensa che un partito che si chiama comunista possa andare al governo in occidente solo attraverso una legittimazione per poi andare all'alternanza oggi è tutto diverso è tutto diverso perché i protagonisti sono diversi perché i governi dei quali che tu hai ricordato sono nati da uno stato di necessità contingente cioè il fatto che le elezioni sono andate come sono andate e che poi non si è riusciti a fare Presidente della Repubblica quindi è una situazione di... e non sono una prospettiva politica non possono essere una prospettiva politica altro è il discorso sulla riforma istituzionale io sono da sempre convinto che le riforme istituzionali si fanno perché sono regole del gioco tra tutti chi governa e chi ha l'opposizione perché se passa il principio che chi governa si fa le riforme istituzionali come ritiene entriamo in un campo nel quale Weimar è dietro l'angolo allora sono due dimensioni diverse la questione del governo è stata obbligata e nessuno in Italia può ragionevolmente pensare che ci possa essere una prospettiva di governo fondata sull'alleanza è un'anomalia che deve essere risolta il più rapidamente possibile attraverso quel meccanismo di alternanza tipica di tutti i paesi democratici per fare questo però è giusto scrivere la regola del gioco insieme poi che i protagonisti diciamo dall'altra parte non siano esattamente quelli di quel tempo è fuori di dubbio perché Moro diciamo non presidiava i suoi interessi nel momento in cui dava il via al compromesso storico aveva anche lui un'idea di evoluzione del sistema politico perché dall'altra parte anche lui si rendeva conto che per la DC era finito un tempo che faceva e quindi anche lui cercava di reimpostare dal suo punto di vista una nuova stagione persino di egemonia democristiana tant'è vero che chiederà Berlinguer di accettare un governo preseduto da Andreotti e quando arriva la notizia di rapimento di Moro Berlinguer è nella stanza di Natta capogruppo alla Camera perché stanno discutendo cosa fare nel voto perché gli avevano preparato un governo ripilante con dei ministri impresentabili e però Berlinguer sapeva che non aveva in quel caso alternative perché se lui quella notte del 76 perché ecco scusate poi finisco subito ma questo è per me la cosa anche Federico poi l'ha vissuta insomma io spero di aver reso il passaggio che c'è tra in quella notte del 76 è proprio uno spartiacque perché per tre anni noi abbiamo vissuto in una condizione entusiasmante sembrava che l'Italia stessa è per cambiare che tutto quello che per anni si era pensato di poter fare si potesse fare nel giro di pochi anni tra il 74 e il 76 è stata un'estate permanente poi arrivano quelle elezioni e cambia radicalmente tutto il festival della FIGICI dove ci saranno i feriti è del luglio del 76 il parco Lambro dove ci saranno i primi espropri proletari le prime violenze è del settembre del 76 a febbraio del 77 c'è l'assalto al palco di Lama e tanti ragazzi che erano con me nella FIGICI mi passeranno davanti in tante manifestazioni facendomi il segno della P38 le stesse persone perché c'era stata una tale carica di attesa di cambiamento che poi quando questa attesa di cambiamento genera il governo Andreotti è un diciamo dal punto di vista della coscienza diffusa è un contracolpo micidiale per cui parliamo di quei tempi parliamo di tempi in cui la sovranità nazionale era molto più limitata di quanto sia oggi in cui c'erano dei rischi molto maggiori e in cui Berlinguer pensava di dover passare per quella cruna del lago per poter poi avere finalmente una democrazia dell'alternanza oggi siamo in una condizione di necessità molto più contingente diciamo così e sono convinto e a ragione penso di essere convinto che questa condizione di emergenza sia tale fermo restando il discorso sulle riforme dal punto di vista del governo è una condizione che non può che essere rapidamente superata verso un normale sistema dell'alternanza tra uno schieramento di centrodestra e di centrosinistra ammesso che siano quelli perché non è detto che siano quelli i due poli dell'alternativa potremmo anche trovarci di fronte ad alternative diverse non lo dico scherzando perché non c'è nulla di scontato può darsi che domani scopriremo alle elezioni europee che l'alternanza che i due poli più rappresentativi non sono quelli ai quali siamo stati abituati in questi vent'anni ma altri può succedere altre domande prego Stefano Vaccara la voce di New York non che il suo soprannome è il giornale online come definizione impegnativa Stefano chiedo anche a te il favore di alzarti in piedi Stefano chiedo anche a te il favore di alzarti in piedi i nomi dei giornali si scelgono anche strategici no? non essere strategici vale anche per Federico presentato come La Repubblica esatto esatto no io c'ho due scusami sono due domande sì dico scusami perché come giornalista no? certo due cose una nel documentario si vede si nota che tu lo fai capire però non lo dici almeno per uno che non lanza la storia italiana però siamo a New York quindi si deve dire siamo negli Stati Uniti che Moro viene rapito dalle come si è detto prima viene rapito dalle forse viene rapito dalle brigate rosse però non viene ucciso solo dalle brigate rosse e allora questa è una domanda proprio a te come politico quando diventi politico tu sei stato considerato il del 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 nuovo partito comunista che diventava DS PD scusa PD DS io poi mi perdo il conto sei stato considerato il filo americano almeno culturalmente il Kennedy e così via ecco io ora saprei proprio così come lì si capisce non si capisce ma secondo te domanda secca gli Stati Uniti nel 78 stanno dietro in un modo o nell'altro della non di non salvare Moro in mano alle brigate rosse questa è la domanda seconda domanda si è sempre sì scusate ma è importante almeno per il mio giornale ai miei lettori in questo in questo documentario si capisce che e l'avete anche detto che Enrico Berlinguer senza Enrico Berlinguer finisce il Partito Comunista si è sempre detto in Italia fino adesso a sinistra che la colpa della destra è che c'aveva appunto leader dipendente senza Berlusconi non c'è Forza Italia senza e allora la domanda è un po' provocatoria è questa senza Berlinguer quando sarebbe morto il Partito Comunista cioè se Berlinguer se non ci fosse stato Berlinguer se Berlinguer non doveva morire ma non so Berlinguer faceva un'altra cosa faceva il velista ma senza una figura come Berlinguer no? una figura carismatica una figura di uomo integerrimo onesto con grande carisma quel Partito Comunista quando sarebbe finito nella svolta di Occhetto o vent'anni prima o trent'anni prima grazie questa seconda domanda è complicata nel senso che in generale è sempre complicato fare la storia con i sé però io posso dirti questo che obiettivamente l'89 è un punto di di rimente di svolta poi diciamo nella vicenda italiana l'89 non è stato la fine nel senso che per la fortuna di aver avuto all'origine Gramsci e alla conclusione Berlinguer il PC può non morire come sono morti i partiti comunisti spagnoli e francesi ma può generare qualcosa di nuovo poi si può discutere come però non c'è dubbio che qualcosa di nuovo ha poi portato la sinistra al governo non è successo in altri paesi con altri partiti comunisti perché per fortuna dall'origine la storia del comunismo italiano è segnata da un pensiero critico e anche da una certa idea che è quella che poi Berlinguer esprime a Mosca sulla prima questione sinceramente se tu mi chiedi se io non sono in grado di dirtelo perché hanno fatto tante commissioni moro e nessuno è riuscito ad accertare nulla da questo punto di vista quello che è certo però che per esempio ci furono dei consulenti mandati dal governo americano che hanno recentemente dichiarato che il consiglio che diedero a chi indagava per salvare Moro era di sostanzialmente lasciar perdere poi ci sono stati solo gli americani e ci sono stati anche i sovietici questa è una bella domanda c'è stato la P2 che ha gestito dei passaggi perché i uomini della P2 sbucano in questa storia di Moro da tutte le parti la vicenda Moro è una vicenda piena di cose oscure diciamo insomma un paio di volte prima con la storia di Via Gradoli e poi a Via Montalcini erano arrivati a un passo o da dove stavano i brigatisti o da dove stavano o da dove stava addirittura proprio Aldo Moro io non sono in grado di darti una risposta precisa faccio riferimento ai dati della storia e a quella sensazione della quale parlavo prima cioè che l'operazione che Moro e Berlinguer stavano facendo non piaceva a nessuno dei due soggetti che in ogni caso vedeva alterato un equilibrio perché io poi l'ho chiesto a Garner non c'è l'ho tagliato perché gli ho chiesto scusate ma voi eravate contro la partecipazione poi Garner è un uomo assolutamente democratico e avanzato dico voi eravate contro la partecipazione dei comunisti al governo in Italia ed era Berlinguer poi però avete accettato la partecipazione dei comunisti francesi al governo con Mitterrand ed erano i comunisti francesi c'è qualcosa che non funziona evidentemente quella combinazione lì era una combinazione che aveva un effetto di alterazione dell'equilibrio dei blocchi in un paese strategico come l'Italia anche per la sua posizione nei confronti del Medio Oriente e quindi probabilmente non so se nella decisione del rapimento per esempio Franceschini nell'intervista integrale che appunto sarà anche questa in questo libro dice che quando loro erano perché c'è un conflitto tra il gruppo storico dell'IBR e il gruppo che ha fatto Moro che ha fatto il rapimento di Moro e Franceschini dice noi volevamo rapire Andreotti io avevo preparato il dossier per rapire Andreotti poi a noi ci hanno preso lui è convinto che siano stati presi sulla base di una spiata del nuovo gruppo delle Brigate Rosse e il nuovo gruppo rapisce Moro e gestisce quel rapimento per stroncare il compromesso storico è ovvio che in quei 55 giorni la partita l'hanno giocata in diversi ammesso che a Biafani siano stati solo i brigatisti dico ammesso perché non c'è nulla che ci dica il contrario però ogni anno e mezzo spunta qualcun altro che stava lì quindi insomma non credo che noi sappiamo ancora tutto però non c'è dubbio che in quei 55 giorni sei riuscito a scoprire durante il tuo ricetto del documentario cosa ne pensasse veramente Berlinguer cioè se Berlinguer aveva un'idea di chi fosse dietro il frattimento no guarda non credo perlomeno io insomma non sono adesso Berlinguer era un uomo di grande riservatezza non era uno che diceva infatti il fatto che lui abbia raccontato dell'attentato di Sofia a due dei suoi principali collaboratori e solo a quei due è la testimonianza di un certo modo di concepire il proprio ruolo credo anche lì Berlinguer non poteva che sostenere altra posizione che la fermezza però Berlinguer era tra quelli che speravano che si prendessero i rapitori di Moro e che Moro fosse liberato lui pensava che come racconta Bianca che una trattativa delle Brigate Rosse in quel momento avrebbe fatto crollare il paese perché insomma c'erano stati tanti morti e si sarebbe stabilito il principio di una legittimità politica delle Brigate Rosse con le quali lo Stato intavolava una trattativa e tuttavia diciamo lui voleva che Moro fosse liberato anche perché con Moro poteva continuare il discorso che aveva fatto l'operazione delle Brigate Rosse è chirurgica perché volevano fare la rivoluzione proletaria e hanno prodotto il pentapartito questo è stato il capolavoro di questi geni perché hanno ucciso Moro e i ragazzi della scorta non dimentichiamocelo mai con un'operazione di una lucidità perché hanno sparato come neanche diciamo degli esperti balistici sanno fare e non hanno sfiorato Moro in quella sparatoria deve essere stata una cosa indemoniata ma l'esito di quella roba lì è il pentapartito Moro sparisce la democrazia cristiana finisce in mano Andreotti Forlani e cambia il quadro politico del paese e quella roba lì ce la porteremo per vent'anni e in quegli anni il debito pubblico di questo paese raddoppia raddoppia questo è il regalo che ci hanno fatto i signori del Brigate Rosso abbiamo tempo per due domande se sono rapidissime e se non chiedono chi ha ucciso Moro Anna Di Lelio New School University e poi vediamo se c'è un'altra una rapidissima perché il partito comunista era contro la televisione a colori e la seconda hai deciso tu o hanno deciso loro di non parlare Tortorella Napolitano di non parlare dei saccordi e delle divergenze che c'erano nella direzione nell'ultima fase Tortorella ne parla sì sì ma non spiega non spiega bene non si capisce bene quali sono quali sono i motivi anche perché poi dopo Berlinguer c'è la scelta di un segretario appunto di transizione non esattamente carismatico dall'84 all'89 sono cinque anni in cui insomma il partito un po' si si affonda si ammoscia dunque sulla TV a colori in effetti il partito comunista e il partito repubblicano furono contrari a introduzione della TV a colori per un ragionamento non diciamo contro l'elettrodomestico erano contrari alla scelta di politica economica che ritenevano che in quel momento a favorire quel tipo di consumo mi fosse sbagliato cosa assolutamente fuori dalla grazia di Dio però così fu e sulla seconda questione sai in un film era difficile entrare troppo dentro perché dovevi spiegarmi le cose diventava molto molto complicato però io ci tenevo a che fosse chiaro che diciamo dalla Fiat in poi Fiat Craxi questione morale e direzione ci fu un dibattito del partito un dibattito legittimo nel senso che insomma c'erano posizioni diverse questa idea che il PC fosse una cosa monolitica è un'idea sostenuta solo da chi non lo conosce il PC perché il PC era una cosa in cui c'erano tantissime posizioni diverse anche durissimamente espresse poi però c'era un certo stile diciamo così c'era un c'era l'idea che e questa è la cosa che io ho cercato di raccontare di tutto il film a me la cosa che mi commuove di più è l'inquadratura finale nel corteo di quella persona anziana che fa così che non è un pugno chiuso è una specie di gesto di incitamento perché io immagino questa donna che sarà partita da Grigento piuttosto che da Pordenone per venire a Roma avrà fatto 10 ore di pullman per stare lì e veder passare per un attimo una persona alla quale evidentemente era riconoscente la cosa che aveva quel partito lì che aveva tante contraddizioni e tanti difetti però è che era una comunità c'era un luogo nel quale c'era una sensazione di volere la stessa cosa e quindi anche le discussioni interne dure che ci sono state perché tra Napolitano e Berlinguel sono state discussioni dure soprattutto nell'ultima fase però non hanno mai come dimostra la commozione di Napolitano alla fine non hanno mai assunto il carattere di una discussione di carattere personale lì c'era una discussione sui rapporti che bisognava avere col partito socialista la fisionomia di governo che doveva avere il partito tutte cose diciamo che insomma a rivederle oggi hanno tutte un'assoluta dignità perché obiettivamente in ultima fase era una fase molto difficile perché c'era il pentapartito e il PC era l'opposizione la prospettiva politica non appariva molto chiara e d'altra parte Berlinguer aveva capito che cos'era il pentapartito e per fortuna ci ha messo a riparo dal rischio di entrare dentro quella logica perché se noi fossimo entrati in quella logica probabilmente diciamo la fase successiva sarebbe stata ancora più drammatica ancora più traumatica però ecco oltre che accennarlo questo con la cosa molto esplicita di Tortorella che dice una cosa che neanche io sapevo cioè che quella linea di direzione si era conclusa in quel modo e d'altra parte lo sguardo di Berlinguer a me ha molto colpito le immagini di quella linea della direzione insomma c'era una discussione c'era una discussione dura però era una discussione non è che uno aveva noi più di diverse e usciva dal partito insomma si stava in un altro modo Angela Vitaliano Claudia una domanda più emotiva perché quando ho scritto oggi che venivo qua tutti mi hanno scritto io quel giorno ero cioè tutti quelli che ricordano quel giorno e anche cosa è il giorno della morte è il giorno che è stato dei funerali di Berlinguer a casa mia mia madre non ha cucinato tre giorni un entusiasmo una passione politica che insomma io ho ritrovato solo tanti tanti anni dopo quando sono venuta qui e c'erano le elezioni di Obama la prima volta in Italia invece si è passata questa cosa che tanto tutti sono uguali tutti fanno schifo e questa apolitica che poi ha portato secondo me questo è un mio giudizio personale una cosa orrenda come il Movimento 5 Stelle ma nello specifico Grillo che rappresenta tutto ciò che per me è antidemocratico e allora oggi sempre questo dibattito sulla mia pagina di Facebook la cosa è dice sì però il PD non fa più sognare e cito Gabber qualcuno era comunista perché Berlinguer era una brava persona sì sono due cose fondamentali sognare essere bravi persone e se lo perdiamo vince Grillo non c'è dubbio la politica hai assolutamente ragione diciamo sognare in tempi di recessione è più complicato nel senso che c'è una materialità della crisi una drammaticità della crisi in cui il sogno deve farsi razionale deve farsi comprensibile da chi sta perdendo il lavoro da chi chiude un'impresa da chi tira giù la sale cinesca di un locale diciamo io sono molto diciamo sensibile a questa idea che la politica sia non solo l'elenco delle cose da fare ma anche una visione generale e quando mi è capitato di avere responsabilità ho cercato esattamente di raccontare questa concezione della politica però mi rendo conto che oggi è così perché non è così solo in Italia è così dovunque tutta l'Europa tu non vedi una leadership che accenda degli entusiasmi non ce n'è è una situazione in cui sembra veramente esserci un e persino l'idea d'Europa che era una grande cosa no? insomma Spinelli Ventotene e poi l'Euro Schengen prima la seconda guerra mondiale insomma le tante cose sono accadute avrebbero dovuto fare dell'Europa un'idea affascinante e carica di sogno e invece non è così per cui oggi temo che dobbiamo passare dalla durezza di una fase molto molto concreta dalla quale poi riaccendere un sogno dopodiché se invece mi chiedi se nella politica italiana si usano in generale le parole giuste per far capire che anche in una condizione di recessione ci sono dei principi giustizia sociale legalità diritti equità sussidiarietà e potrei continuare meritocrazia sì assolutamente sì è chiaro che c'è bisogno di alimentare il discorso pubblico anche di questo però insomma oggi siamo di fronte ad una drammaticità della situazione che io a memoria non ricordo insomma l'ultima domanda della serata Letizia Aeros di Italy prego io ti vorrei riportare al documentario volevo chiederti che io ho trovato molto equilibrato mi è piaciuto molto volevo chiederti quali sono stati i momenti più difficili dal punto di vista narrativo per te guarda è stata la scelta dunque io avevo deciso di avere diverse fonti una è ovviamente il materiale di repertorio ed è stato bellissimo e anche durissimo vedere le centinaia di ore e selezionare le cose che mi sembrava essere più significato poi queste interviste la selezione di chi intervistare è stata io per esempio penso che quella frase finale giovanotti sia bellissima quella idea che la parola comunista in Italia non evocava i carri armati evocava la faccia di Berlinguer per questo non faceva paura e questo spiega perché il PC è arrivato al 35% spiega spiega è uno degli elementi poi qualche suggestione presa dall'immaginario i film la televisione e le cose che io ho girato come forse hai visto tutte le cose che ho girato sono in luoghi vuoti cioè San Giovanni all'inizio è vuota è vuoto il carcere è vuota la scuola è vuota la barca quella è veramente la barca sulla quale Berlinguer andava c'era il nipote di Berlinguer sdraiato per terra sul fondo della barca che la faceva andare è vuoto il luogo dove lui fece il discorso del 77 perché andando a Mosca per la fortuna siamo riusciti a poterla filmare a poterla filmare vuota è vuota la sua stanza d'albergo io non c'ero mai entrato in quella stanza però a me l'idea che il segretario del più grande partito dormisse in quella stanza invece che in una suite insomma dà un po' l'idea e la misura della persona comunque io volevo raccontare questa sensazione di vuoto a fronte del pieno di San Giovanni e del pieno emotivo avete visto quell'immagine che c'è della piazza quando quella è il discorso che lui fece a Napoli alla festa dell'unità di Napoli e avete visto che marea di gente c'è ecco quello che volevo raccontare era questa diciamo separazione tra vuoto e pieno che corrisponde anche un po' ad uno stato emotivo diffuso in questo momento di rapporto con la politica quindi forse la cosa più complicata è stata questa grazie bene non abbiamo proprio più tempo per nessuna domanda credo che sia l'orario più tardo che abbiamo fatto alla Casa Italiana dell'inaugurazione ad oggi vi ringraziamo grazie 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 grazie